Tu sei Santo, Signore Dio, Tu sei forte, Tu sei grande, Tu sei l'Altissimo, l'Onnipotente, Tu Padre... Abbiamo fatto questo itinerario, Francesco d'Assisi, una specie di introduzione, Francesco individuo e ciò che lo circonda, i suoi compagni, le persone che vivono anche da lontano, per lui, vicino a lui, come Chiara d'Assisi e per interposta persona, dopo che lui è morto, Agnese di Bohemia, per esempio questa è un'interposta persona successiva alla morte di Francesco, fanno una famiglia, costituiscono una comunità spirituale dove l'affinità spirituale serve per la descrizione perfetta dello stesso Francesco d'Assisi. Il frate perfetto, secondo una celebre passaggio dello specchio di perfezione, è un passaggio unico, è un frate che imita molti frati, non che si prende una virtù, ma che imita la virtù di più di cinque frati. Relazione con altri ruori e istituzioni, pontefici, imperatori, eccetera. Poi abbiamo cominciato con le fonti francescane, partendo dalle ultime in lingua francese. Abbiamo visto gli scritti, parlando ancora delle fonti, perché gli scritti sono nelle fonti, fonti italiane, due tipi, due tempi di redazione, 77 e 2004. Gli scritti ultimi disponibili sono curati da Paolazzi nel 2009 su mandato ufficiale dell'Ordine dei Frati Minori che hanno detto a lui, nell'ottocentesimo anniversario della regola, vedi di rifare l'edizione della regola in modo ulteriormente affidabile. È quel volume che avete visto con la copertina a blu. Abbiamo poi visto due tipi di biografia, la biografia di Francesco Giovane e la biografia di Francesco Adulto e nell'ultima parte della sua vita. Per vedere il Francesco Giovane leggete sempre la leggenda dei tre compagni. per considerare il Francesco Adulto partite sempre dalla compilazione d'Assisi. In una fonte, per la maggioranza, eccetto gli ultimi due pericopi, si parla del Francesco Giovane. Nell'altra invece è solo il Francesco Adulto. Per cui già leggere due opere significa polarizzare la ricerca e l'attenzione su due tipi di vita di Francesco. E oggi stiamo per concludere. Io oggi concluderei con alcuni aspetti importanti. Cominciamo dal Testamento di Francesco. Il Testamento di Francesco è un documento che allaccia strettamente il giovane convertito, come si converte, lo stile dei primi tempi e il Francesco che sta per morire. Per cui è l'unico grande documento che fa da cerniera, da aggancio, da anello di congiunzione tra l'inizio e la fine della vita. Il Testamento poi è intimamente il primo vero commento alla regola. Il Testamento è stato sempre la bandiera di ogni riformismo. Per esempio, nei Cappuccini, l'abbandono del Testamento lo abbiamo già dopo dieci anni di vita. Cioè, da Albacina a Sant'Eufemia già c'è il passaggio strutturale di cambiamento. Il 1529 era un romitorio in mezzo ai boschi, una chiesa prestata dai camaldolesi e lì c'è il primo capitolo di 20 frati. C'è ancora molta devozione dalla parte della gente. La chiesa si chiama Acquarella, cioè c'è una sorgente vicina. Ricordate sempre che i monaci, i conventi, si costruiscono vicino a sorgenti. Abbiate sempre occhio anche al territorio, perché l'acqua è vita. Non potete fare come un nostro missionario in Brasile che ha costruito una segheria, una falegnameria e il primo legno in abbondanza è a 100 chilometri. E' chiaro che ha costruito quello solo per i soldi dei benefattori, perché aveva la fissa della falegnameria. Sono cose... Siamo un po' così. Non so come titolare questa giornata, se è liturgia o semplicemente conclusione. Liturgia però ha un suo significato. Testamento. Poi il secondo grande argomento che forse per me è il più importante è la mistagogia o prosagogia francescana. Prosagogé è un termine di San Paolo nella lettera ai Romani, se non sbaglio. Mistagogia è essere condotti per mano nel mistero. Prosagogia è essere condotti con mano ad un incontro. Dio è incontrato. Non è una contemplazione del mio cervello. Il vero processo sano di conversione è la gestione di un incontro. Di Dio con me e poi mio con il Signore. Dio con noi, noi con il Signore. Prosagogia. Pros vuol dire andare verso qualcuno. e se cercate la parola prosagogia non la trovate. Cioè la trovate nel vocabolario di San Paolo ma è difficile che la troviate. Il grande testo in assoluto è il Liber Sacramentorum Romani Ecclesi a ordini sanni circoli detto anche sacramentario gelasiano. Ripeto, ve l'avrei voluto portare in edizione anastatica che è una reliquia ma avevo paura di appesantire troppo lo zainetto e le due borse. Allora procediamo con il testamento di Francesco. Ah, dopo qualcuno mi ha chiesto di sintetizzare i criteri di antichità e autenticità dei testi chiaramente rimanendo sempre a livello di scienza e la scienza non è mai certezza assoluta la certezza assoluta c'è solo in Dio l'assoluto la scienza è sempre relativa per cui anche la scienza nostra è affidabile approssimata, garantita, minimamente certificata ma attenzione che con questa affidabilità approssimazione, garanzia, certificazione possiamo andare sulla Luna a livello scientifico cioè sono cose serie ma non abbiate l'infanzia illusa di avere certezze che più certe non ci sono e anche se ci fossero una persona che ama non cerca certezze dalla persona che ama ama a prescindere dalle certificazioni qui c'è tutto un processo psicologico maturo dove il bambino cerca contatto cerca sempre sicurezza vuole stare nel lettone dei genitori ma più si diventa adulti più l'amore diventa capace di stima onore, adorazione anche se tu non vedi papà e mamma anche se papà e mamma si nascondono anche se mamma e papà dovessero allontanarsi per un certo tempo ecco la velatura sacramentale il nascondimento sacramentale non è una difficoltà alla fede è una moltiplicazione della gioia esultante della fede come dice Pietro in quel bellissimo cantico di perfetta letizia così dicono alcuni esegeti il versetto 3,10 della primo capitolo della prima lettera di Pietro esultanti nella fede anche senza vedere fisicamente il Signore i criteri di autenticità sarebbero coerenza brevità e difficoltà quando vedete che un testo è affine ad altri testi di Francesco è facile che sia originario quando vedete che un testo è più breve molto breve è più forse più antico di un testo longior cioè più più grande nella esposizione lo stesso testo più lungo o più breve il più breve può essere attenzione non esagerate mai sul principio perché a volte ci capita di avere dei testi lunghi che sono più antichi del testo breve cioè mai fare per quello che vi dico affidabilità approssimazione mai dare dei principi secchi e sempre uguali il terzo è la difficoltà quando hai difficoltà quando hai difficoltà a capire può essere che sia un testo originario è la famosa leccio difficilior affinior brevior e difficilior questo a livello di stile a livello di contenuti cioè stile sono le parole singole il contenuto è il pensiero servus dei è il contenuto ecco queste tre caratteristiche possono essere gli elementi fondativi da sviluppare chiaramente per dire nei Vangeli perché noi sono cose queste che attingiamo dall'esegesi biblica possiamo davvero arrivare alla storicità di Gesù Gesù non è un'invenzione degli evangelisti ma davvero lo stesso Luca è talmente bravo che in alcuni passaggi del suo Vangelo si vede il sustrato ebraico aramaico della fonte e sono cose stupende anche nel francescanesimo è possibile per cui gli scritti di Francesco sono molto di più di quelli attuali quei tre beatus cioè quei beatus questi tre servus dei che abbiamo visto ieri relativi a frate corpo sono con estrema verosimiglianza autentici ma torniamo a un testo tra i molti ma questo è particolarmente importante che è il testamento di Francesco io prima ho fatto una scansione in tutte le mille pagine per 21 volte c'è la parola testamentum testamentum è neutro per cui non c'è il testamentus ma testamentum sempre testamentum è già il termine vuol dire alleanza cioè quando io muoio la mia alleanza con voi di frati viene ulteriormente rafforzata con un codicillo con un'aggiunta ma testamentum è un modo di dire non per nulla diciamo antico testamento nuovo testamento bisognerebbe di dire al posto di dire antico bisognerebbe dire primo testamento secondo testamento nuovo e definitivo testamento dire vecchio testamento si è un po' di tendenza scismatico ereticale marcionita il marcionismo è un'eresia che prende solo il nuovo testamento e disprezza l'antico testamento il marcionismo è del terzo secolo inizio terzo secolo fine secondo secolo e molti hanno questa tendenza in nome di cristo cioè siccome cristo è il compimento di tutto allora l'antico testamento non solo non lo leggiamo ma lo dispreziamo prima dei cani ci sono le anime forse quando avrete salvato l'ultima persona al mondo comincerete a dedicarvi ai cani questo è il principio che dovremmo seguire significa rispettare le creature ma non dedicarsi cioè lì andava a fare l'acquesto del pane della carne per i cani sarebbe meglio farla per per i bambini poveri ricordo che una cifra spaventosa per cui credo che non sia vera della Sant'Egidio due mesi fa dice che a Roma ci sono 30.000 bambini che soffrono la fame 30.000 non può essere neanche durante l'ultima guerra c'erano 30.000 bambini per cui qualche zero è scappato io li pubblico nella rassegna stampa come sono cioè senza cambiare però al massimo saranno 3.000 fossero anche 500 sarebbe un'emergenza 500 vuol dire avere almeno 3 orfanatrofi o 3 istituzioni tutte piene di bambini che hanno fame per cui per dirvi a livello giornalistico attenzione a quello che dicono testamentum alleanza antico testamento direte quali fili rossi ci conducono ma il testamento le ultime parole che diremo prima di morire sono le più importanti della vita preparatele già il famoso messaggio all'umanità poi magari qualche frate dice proprio non mi interessa sapere qual è il tuo messaggio è importante che tu liberi il posto la cella così vado io ad abitare in quella cella non è molto umano non è molto cristiano ma è molto diffuso oggi questa relazione poco fraterna non meravigliatevi perché essendoci poca fede verso l'alto c'è poca fede anche a livello orizzontale chiaramente io l'ho diviso questo testo aggiungendo i blocchi dell'officina franciscana di Solvi per cui troverete sia FF l'edizione la prima e la seconda perché la numerazione del testamento è uguale in tutte e due le edizioni avute per cui non ci sono problemi di numerazione togliamo uno o due altrimenti si fa confusione i titoli sono di Solvi cioè un modo da unificare un po' le titolazioni quando nei titoli c'è qualcosa che non funziona oppure che si potrebbe aggiungere io lo aggiungo tra le parentesi quadre vediamo il testo e lo vediamo purtroppo in latino cioè dovremmo fare le famosi confronti tra le versioni italiane ma credo che io almeno non l'ho ancora fatto quando farò questo lavoro lo inserirò subito nel file latino in modo che quando vedete il testo latino vedete anche vari tipi di altri lavori il signore dominus quando troviamo dominus è un termine importante per gli ebrei perché può essere il tetarramma sacro jave potete scriverlo anche con la W dipende dalle zone gli italiani usano la V che è il jave di abramo di isacco e di giacobbe questo è il dio che sarebbe Gesù sarebbe meglio il padre scusate il padre di Gesù ma visibile in Gesù il vangelo di oggi lo dice in modo unico molto chiaro molto secco chi vede me vede il padre il dominus ma in genere in francesco state attenzione che può essere Gesù questo dominus Jesus ogni testo dovrete fare attenzione se è il padre o è Gesù a volte è la Trinità stessa per cui sono tre i significati del termine dominus che potete avere quando leggete Francesco d'Assisi quale sia di quei tre bisogna stabilirlo di passo in passo e attenzione che dovete sempre chiedervi di chi si sta parlando altrimenti fate come nell'attuale liturgia che si fa confusione totale tra il padre e il figlio lo spirito santo ora la confusione non è teologia è vero che c'è unione ma deve essere un'unione distinta ma non confusa distinta ma non separata un'unione non confusa questo modello dell'unione distinta e unita è la formula di Calcedonia dove la cristologia diventa il miglior modello per leggere la persona di Cristo e la persona del cristiano Calcedonia siamo nel 451 e di Calcedonia bisognerebbe inserire nel credo alcuni passaggi perché il credo di Nicea di Costantinopoli non è ancora perfetto ci sono stati altri concili che hanno perfezionato il credo spero che i prossimi papi se ci sarà prossimità secondo la volontà di Dio facciano attenzione a completare il credo per esempio nel 381 invece di dire che lo spirito è consustanziale al padre e al figlio hanno usato delle circonlocuzioni ma la scelta vera era quello di dire che era consustanziale in modo di avere più armonia anche logica spirito è uguale al padre e al figlio il figlio è uguale al padre e allo spirito consustanziale è un termine scandaloso perché è molto forte e tra l'altro era usato dagli ignostici per cui hanno usato un termine che qualche dottore della chiesa come Cirillo di Gerusalemme non ha mai voluto usare perché era troppo eccessivo ma sono questioni che studierete in dogmatica spero che studiate queste scienze con passione e senza dormire durante le lezioni pregate il Signore di avere dei professori coscienti non dico bravi coscienti del mistero che devono spiegare dominus così diede a me frate Francesco di iniziare a fare penitenza facere penitensiam è un modo molto evangelico facendi penitensiam è la penitenza dei santi vangeli la penitenza di Giovanni il Battista il battesimo di penitenza è un concetto che ritrovate nella teologia latina dei vangeli in greco la parola non è uguale il testo latino dei vangeli è molto più arcaico di quanto fino a 15 anni fa in università dicevamo perché era un dato comune che il latino ecclesiastico fosse nato nel terzo secolo attualmente secondo ricerche molto più recenti il latino è già presente nel primo secolo latino ecclesiastico e sono ricerche di alto valore perché dal momento che mentre ero in peccati nei peccati questo è un modo da interpretare bene le interpretazioni non siate prepotenti cioè non dite mai ho ragione io e gli altri hanno torto presentate presentate la vostra tesi Tommaso vi insegna anche a presentare l'altra tesi quelli che sono contrari a voi per cui in peccati si può avere almeno due interpretazioni che Francesco davvero fosse un gran peccatore come dice allude il primo celano che invece la frase dica la vita nel mondo giovanile generalmente è una vita che si può definire nel peccato tanto è fragile tanto è disordinata tanto è pericolosa tanto è rischiosa nel senso di rischio negativo scegliete voi se chiedete a me l'opinione vi dirò che tenendo conto di altre fonti francescane non è che Francesco fosse un peccatore provocatore e cattivo al contrario era un animo nobile che evitava assolutamente non solo nei gesti ma anche persino nelle parole atteggiamenti scortesi sia verso Dio che verso gli altri ricordo che quel grande peccato di aver rifiutato un'elemosina è sostanzialmente un peccato di omissione ma è grandissimo chiaramente per cui analizzare l'infanzia di Francesco che sia stato un grande miserabile peccatore come si definisce lui ma la miserabilità dell'essere peccatore ci può essere anche in una persona che non ha mai fatto un peccato grave aver fatto anche un peccato veniale verso l'infinito amore di Dio merita secondo te l'inferno perché chi è Dio così grande per essere dimenticato per cinque secondi una dimenticanza di cinque secondi è una venialità secondo il codice morale secondo il codice della carità aver dimenticato qualcuno che dà la vita per te è una cosa gravissima per cui c'è la gravità oggettiva morale e c'è la gravità caritativa morale cioè la carità che è Dio cambia completamente lo statuto della gravità al tempo stesso non ti fa scrupolo perché ti vuole bene quel Dio e quel Dio non ha paura né dei tuoi peccati mortali anche se soffre per te tanto meno anche dei peccati veniali sono cose molto particolari queste io ho trovato in un sacramentario dell'anno 1000 di Ivrea e me lo sono anche fatto spedire il sacramentario Liber Pontificalis di Varmundus Varmundus è il vescovo di Ivrea nell'anno 1000 dove per tutta la messa pontificale il vescovo continua a chiedere perdono ma per tutta la messa anche quando recita il Gloria dovrebbe essere allegro noi diciamo a parte che il Gloria non è moltissimo allegro perché c'è l'agnello di Dio che porta i peccati ma lui cioè intercalava sì sì erano preghiere che accompagnavano oltre quello ma con delle preghiere talmente forti che secondo me è solo dallo studio ebraico del Kippur la grande festa della remissione dei peccati si potrebbe capire perché esagera così quello che è il sommo sacerdote della comunità secondo la teologia antica cioè il vescovo che presiede la missa pontificalis si dà del disgraziato del del si farà ma con titoli che è chiaro che un un sommo sacerdote non è così è così quando prende su di sé i peccati di tutto il suo popolo e io penso anche questo andrebbe verificato con delle ricerche a livello universitario che il confiteor nel suo nucleo essenziale sia una preghiera del tempio di Gerusalemme perché si dice mea maxima culpa in maxima grandissima è un'esagerazione e l'esagerazione la si può capire di fronte alla carità della misericordia di Yahweh che perdona i peccati ricordando Abramo ma è un talmente grande il mistero che i peccati li evitano cioè io sono un adesso i termini magari possiamo anche vederli perché è uno spettacolo vedere come il vescovo si definisce con tutti i termini uno che ha fatto delitti uno che ha fatto cose inimmaginabili ma come ha fatto niente se fossi così un bandito non ti farebbero sommo sacerdote chiaro no? la logica che ah sì poi andava su confessa vedete che qui ma sono frasi impressionanti come forza quella è l'umiltà Francesco quando dice di essere il più grande peccatore non ha fatto grandi peccati ma di fronte alla quantità di amore che doveva avere verso Dio in quello si sente il peggiore di tutti i peccatori e ha ragione è la logica della carità non è la logica esteriore per cui in peccatis è tutto da interpretare se poi volete che Francesco sia stato anche peccatore e avesse avuto cinque fidanzate in contemporanea vedete voi cioè dalle fonti grazie a Dio sembra che non sia così ma nessuno vi obbliga a credere che è così cioè le fonti sono una proposta sono un invito a leggere la vita di Francesco non sono un obbligo a credere non si obbliga a credere neanche con il credo se voi leggete il ventiquattresimo capitolo di Giosuè l'alleanza famosa è un'alleanza rifiutata cioè io e la mia tribù faremo saremo servi di Yahweh o Yahweh voi se non volete no vogliamo no non siete pronti no vogliamo lo stesso vabbè allora state attenti perché noi non vi accettiamo all'alleanza ma se volete dovete stare attenti a quello che dovrete fare allora quando ero nei peccati molto a me sembrava amaro vedere i lebrosi qui dopo che abbiamo visto quel fatto capite la letteralità di questo vedere i lebrosi davvero quando incontrava da lontano voltava la testa e si turava il naso manibus attenzione non è che con la mano turi il naso con dita digitibus ma se il testo latino dice manibus abbiate un po' di flessibilità per dire si può essere la mano ma in genere il naso si tura con le dita oppure potrebbe anche essere come una cosa di questo genere sarebbe anche preferibile perché è anche più attenzione manibus dovrebbero essere tutte e due le mani perché sono due mani ma come fate a tenere il cavallo con le due mani ecco non stiamo a discutere come Francesco si turava il naso davanti ai lebrosi articolo scientifico da pubblicare su miscellanea franciscana potrebbe anche essere ma è talmente banale ci fermiamo qui